Oltre 13 milioni di euro per ridurre le liste d'attesa e recuperare visite e interventi arretrati. La Regione Marchi ha variato il piano operativo 2024 per l'abbattimento dei tempi di prestazioni ambulatoriali, recovery e screening. Una strategia definita dopo mesi di lavoro e presentata questa mattina in conferenza stampa ad Ancona. Il tema di liste d'attesa è un tema legato alla compatibilità finanziaria del nostro Paese. Ciò non di meno, voglio ricordare, e questo lo ripeto spesso, che tra le condizioni generali del nostro Paese, la nostra Regione è tra le cinque Regioni che adempiono Ailea. Questo non significa che tutte le prestazioni sono garantite, ma penso che la riorganizzazione della sanità della nostra Regione, che è costituita ormai da sette aziende, ognuna delle quali ha un obiettivo preciso. Noi abbiamo inserito l'obbligo di aumentare le prestazioni per le liste d'attesa come obiettivi specifici dei direttori generali, a cui abbiamo trasferito da gennaio tutte le risorse necessarie alla riorganizzazione. Si valuti ancora che in queste settimane le aziende stanno predisponendo la riforma degli atti aziendali, quindi la riorganizzazione delle tecnologie e del personale, che deve chiaramente portare a un aumento di prestazioni in questa materia. Quindi diciamo che ci sono tutte le condizioni, la riorganizzazione, le risorse, il piano operativo e un aumento di risorse che deliberiamo con questo atto. Il piano operativo, portato in giunta dal vicepresidente Filippo Saltamartini e dal sottosegretario Aldo Salvi, prevede anche un monitoraggio mensile regionale, che permetterà di intervenire con delle azioni correttive in caso di criticità emergenti. Tra le novità per ridurre le liste d'attesa, anche prestazioni aggiuntive. Naturalmente sono delle prestazioni volontarie da parte dei medici che si aggiungono all'orario stabilito. Chiaramente in questa direzione c'è un incentivo, che è quello della prestazione che viene garantita con 100 euro ad ora. Quindi rispetto a un trattamento ordinario mensile c'è anche un incentivo dal punto di vista remunerativo dei professionisti. Diciamo quindi che l'indirizzo della regione è quello di tenere aperto soprattutto le nuove tecnologie, anche sabato, domenica, anche con orari serali. Ma questo dipende evidentemente dall'adesione dei professionisti e anche dall'adesione dei sindacati rappresentativi, dei medici e degli infermieri delle professioni sanitarie.